Ciao a tutti, sono Bruno Faccini, presidente del gruppo CNA Giovani Imprenditori di Ferrara e titolare di ITE Stense, azienda che si occupa di marketing digitale. Oggi abbiamo il piacere di essere qui in compagnia con Simone Parazzi Rossi. Simone è un ingegnere gestionale, un libero professionista che è specializzato nella consulenza direzionale e ha una particolare esperienza proprio anche sull'aspetto del project management e dell'industria 4.0. Sta per cominciare una nuova puntata del nostro format che si chiama Come mantenere l'impresa in 10 passi. Vi ricordo che esce ogni martedì alle 18.30 su questa pagina e in breve, per chi ancora non lo conosce, vi spiego di che cosa si tratta. Tutti si concentrano sulla fase dell'apertura dell'azienda, quella che c'è prima di aprire l'azienda, che sicuramente è un aspetto cruciale. Però una volta che l'azienda è partita, ci sono gli errori da non fare. E così, insieme al resto del team dei giovani imprenditori, abbiamo individuato 10 aspetti che riguardano proprio la gestione aziendale e che riteniamo cruciali per mantenere l'impresa in salute. Abbiamo confezionato un ebook, quindi un piccolo manualetto, un pdf, che si può scaricare gratuitamente seguendo il link che si può trovare nella descrizione del post qui vicino. E appunto ogni martedì c'è un appuntamento video con cui parliamo, durante il quale parliamo con un ospite, un esperto diciamo di uno di questi temi. Quello di oggi appunto che affronteremo insieme a Simone, che ringrazio per essersi reso disponibile a partecipare, che si chiama Evolvere e Diversificare. Simone, allora, credi che il termine evoluzione abbia senso per un'impresa appena nata? Intanto Bruno ti ringrazio per l'invito. Credo che il termine evoluzione sia veramente centrale per tutte le imprese e in tutte le fasi di sviluppo dell'impresa. Io ti porto il parallelo dell'essere umano, è una metafora se vuoi, diciamo anche molto semplice, però la domanda provocatoria potrebbe essere, ha senso il termine evoluzione per un giovane, piuttosto che per un neonato? Allora il neonato sarebbe se vogliamo la start-up, il giovane l'impresa con pochi anni di vita, ma il termine evoluzione ha senso anche per la grande corporation consolidata o l'azienda consolidata da molti anni. Diciamo che la dinamicità del contesto in cui viviamo, in realtà abbiamo degli esempi veramente di grande attualità, tutto il modo anche di lavorare che si è modificato così velocemente, in giro di pochi mesi, possiamo dire, fa sì che il termine evoluzione sia di grandissima attualità. Adesso faccio una citazione che è un po' abusata, però mi piace farla anche spesso nei miei corsi. Ed è la citazione di Darwin, Charles Darwin, l'evoluzionista appunto, che dice fondamentalmente che non è la specie più forte a prevalere, diciamo, e a sopravvivere nel tempo, ma è quella con la maggiore capacità di adattamento. E infatti, diciamo, i dinosauri in qualche modo si sono estinti, per quanto fossero potenti e sembrassero dominare il mondo. Io spesso uso anche come metafora, diciamo, dal punto di vista della geometria, la figura della spirale. La spirale è una figura di tipo circolare, ripetitivo, che però, diciamo, si eleva ad ogni ripetizione verso l'alto. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dovremmo pensare appunto all'impresa come se nel ripetere, diciamo, l'operatività quotidiana, però dovesse sempre produrre una piccola crescita, un piccolo apprendimento, un piccolo miglioramento che le consente di rimanere competitiva sul mercato. Perché in realtà la questione, che poi è alla base proprio della sopravvivenza, della competitività delle imprese, è che senza evoluzione non è che, come dire, non si acquisiscono maggiori quote di mercato, ma proprio si rischia di finire fuori dal mercato. Questo è un po'… Molto interessante anche la figura che c'è delineato della spirale, molto molto interessante. Tra l'altro si mi trovi assolutamente d'accordo anche sulla filosofia che hai descritto. E a questo proposito, cioè il concetto di evoluzione che hai descritto, quindi che diventa fondamentale per sopravvivere, cioè come dicevi, più che per anche restare competitivi, ti chiedo, cioè c'è qualche cosa su cui conviene concentrarsi, in particolare pensiamo a chi ha aperto un'impresa da poco, quindi magari focalizzatissimo sulla propria operatività e magari avrebbe piacere di sapere se c'è qualcosa di specifico, non so, prodotti, processi. Cioè un consiglio secondo te, su cosa conviene focalizzare l'attenzione? Bruno, la domanda è veramente ben posta, perché in realtà da questo punto di vista io credo che le aziende debbano concentrarsi su tante cose contemporaneamente. Diciamo non è che possiamo in qualche modo focalizzarci solo sul prodotto. Ecco, forse una volta era possibile, una volta eravamo molto più prodottocentrici. Perché? Perché era il mercato che ci veniva a cercare. in qualche modo c'era, diciamo, una domanda come dire, molto più rigogliosa, molto più. Quindi sì, diciamo, il prodotto è comunque un must. Il processo è sicuramente un elemento su cui dobbiamo per forza concentrarsi per rendere più efficienti le nostre modalità di lavoro e quindi anche meno costosi e più competitivi a livello di prezzi, a livello proprio di acquisizione di mercato. Quindi prodotto-processo senz'altro, ma io ti dirò, rilancio ulteriormente, e dico cliente, perché in realtà... Ecco, bello spunto questo. Oserei dire che ormai, diciamo, ancora più del prodotto, ancora più del processo, è tassativo avere, diciamo, una fortissima sensibilità su ciò che avviene a livello di mercato e quindi sui bisogni dei clienti. Da cui poi discendono, ovviamente, ai miglioramenti di prodotto e processo. Tra l'altro, guarda, sull'aspetto del cliente, credo che, appunto, lavorando nella parte di, come ti spiegavo, di marketing digitale, cioè l'aspetto dell'attenzione che viene anche data al cliente, no? Credo che oggi, forse più di altri periodi storici, dove alla fine magari c'era forse una maggior differenziazione e anche dei prodotti, no? Come dicevi anche tu. Oggi, effettivamente, il valore aggiunto potrebbe proprio essere anche l'attenzione in più che qualcuno magari può dare al cliente. Cioè, trattiamoli bene questi clienti che poi si ricordano sostanzialmente, no? E vedo che questo aspetto è sempre centrale. Ti chiedo, quindi, invece, noi abbiamo detto che il tema si chiama evolvere e diversificare. Quindi, dell'evoluzione abbiamo parlato, direi, danno degli spunti anche molto belli. Per quanto riguarda, invece, la diversificazione, cioè, un'azienda appena aperto e già deve pensare a diversificare? Ha senso? C'è un motivo? Ha senso, ha senso, ha molto senso. Adesso io non vorrei fare, diciamo, troppo complicata, nel senso che prima ho detto che bisogna concentrarsi su tante cose e allo stesso tempo ti dico e ti confermo che anche la diversificazione è un elemento che bisogna coltivare in azienda, anche in un'azienda giovane, che spesso, diciamo, non ha tante risorse e quindi già ha la fase, l'operation, quindi, diciamo, l'operatività già assorbe, assorbe molto della nostra energia. Però anche la diversificazione è molto importante. Perché questo? Perché, in realtà, diciamo, il mondo sta cambiando con una velocità talmente, come dire, frenetica, per cui quello che oggi è il nostro cliente, domani potrebbe non esserlo più e quindi noi è come se in, come dire, in una corsa continua dovessimo guardare accanto a quello che è il nostro cliente attuale per guardare quello che non è il nostro cliente attuale e potrebbe essere il cliente del futuro. Quindi fondamentalmente fare molta attenzione all'applicazione del nostro prodotto, del nostro servizio, ad ambiti che sono attigui, che sono attigui o anche, ovviamente in un'ottica proprio di innovazione del modello di business, diciamo, identificare servizi nuovi che possono comunque servire quei segmenti di clientela che già stiamo servendo. Quindi fondamentalmente chi si ferma è perduto. Ecco, la diversificazione è un elemento fondamentale. È fondamentale, sono accordissimo con questo concetto. Ti chiedo, mai degli esempi anche da dare, cioè ti viene in mente qualche cosa anche proprio di concreto, anche per chi ci segue, così per capire a volte in maniera più pragmatica, più semplice, alcune cose, non so. Sì, cioè devo dire che di esempi ne ho, ne ho molti e diciamo alcuni possono sembrare lontani, altri invece sono molto vicini magari alla realtà della piccola e media impresa. Alcuni che sono di grande attualità, te li propongo subito. Allora, tutto ovviamente siamo immersi in questo momento nella gravissima problematica della pandemia, eccetera, però hai visto Bruno quanto alcune aziende che anche di piccola e media dimensione si sono adattate velocemente al tema della riconversione produttiva verso per esempio quello che era inizialmente il grande fabbisogno di mascherine. Le mascherine, certo. Poi per esempio io diciamo proprio recentemente sono stato in delle aziende che hanno iniziato anche a livello meccanico a lavorare diciamo servendo per esempio settori medicali piuttosto che quelli diciamo che in qualche modo sono diventati strategici per il nostro paese, dagli elettroventilatori piuttosto che diciamo i macchinari che consentono di produrre vaccini. Quindi e questo non è solo anzi oserei dire sono più veloci e più brave le piccole e medie imprese ad adattarsi velocemente che non le grandi imprese. Ben che ci siano degli ottimi esempi anche nelle grandi imprese. Tra l'altro poi su questi esempi che hai fatto mi pare che proprio in Emilia Romagna ci sono stati alcuni casi notti di grandi aziende automobilistiche che si sono riconvertite non mi ricordo se sta Ferrari o anche Ferrari infatti sì io la flessibilità capisco cioè essendo un'azienda piccola la mia è una cosa che ci ha per noi è stata fondamentale ci siamo adattati molto negli anni io ormai è da 2006 che abbiamo questa piccola azienda però siamo molto flessibili ed è stato per noi un fattore fondamentale. Sì ti faccio anche un altro esempio di attualità immagina la la 4.0 no? come quindi sostanzialmente quella che inizialmente era industria 4.0 adesso è piano di transizione 4.0 comunque tutto ciò che attiene alla digitalizzazione alla trasformazione digitale insomma che è un tema di grandissima attualità e tra l'altro è collegato a agevolazioni fiscali importanti per le imprese ecco questo è un elemento che anche se diciamo l'azienda ha iniziato da pochi anni è presa dall'operatività non può trasformare quindi deve assolutamente portare a un come dire a una trasformazione ecco per consentire di sfruttare le opportunità che derivano da queste agevolazioni ma anche ovviamente da tutto quello che è il miglioramento consentito dalla digitalizzazione d'impresa certo arrivare poi ad aziende diciamo che innovano continuamente i propri processi introducendo diciamo nuove lavorazioni questo veramente oserei dire la domanda forse rende ancora più evidente quanto diciamo gli esempi sono diffusi chiedete a qualsiasi imprenditore o qualsiasi impresa che abbia qualche anno di storia alle spalle chiedetegli se sta facendo esattamente quello che faceva all'inizio quando diciamo ha fondato l'impresa quando è iniziata l'attività hai assolutamente ragione anzi mi ricordo quando avevamo cominciato che facevamo siti internet e o eri un programmatore adesso anche io ho fatto ingegneria e insieme a altri ragazzi o eri programmatore e facevi siti o non li facevi oggi questo è cambiato tutto in maniera assolutamente totale proprio quindi abbiamo dovuto evolvere anche noi sono d'accordissimo quindi è interessante questo anche spunto che è dato di provare a chiedere potrebbe essere anche un bel consiglio comunque di andare a sentire da imprenditori persone che hanno un'impresa e provare a chiedere a volte magari anche facendo domande a chi ha già un'impresa ci può dare idee ci può regalare qualche cosa che ci può tornare utile a livello di imprenditoria se vogliamo di questo stiamo parlando fondamentalmente e quindi prima di salutare i nostri amici c'è un qualche altro mi piace questa cosa che hai dato lo spunto c'è un altro esercizio qualche cosa che in base alla tua lunga esperienza che hai con le aziende che così per far toccare con mano qualcosa di concreto possiamo dare ai nostri amici da casa sì allora il mio il consiglio che tendo a dare un pochino a tutte le imprese indipendentemente anche proprio dal loro grado e dal loro diciamo e dal come dire dal loro ciclo di vita dalla fase del ciclo di vita che stanno vivendo intanto è quella della misurazione quindi se dovessi in qualche modo sempre che diciamo che io posso svolgere questa funzione da professore di assegnare compiti a casa però in un ipotetico compito a casa assegnerei il compito di misurare perché sappiamo bene che è difficile migliorare ciò che non che non riusciamo a misurare quindi iniziare a misurare che possono essere non so le tempistiche a consuntivo di determinate lavorazioni piuttosto che tutto il tema del controllo di gestione quindi dei margini che riusciamo a ottenere per tipologia magari di lavoro per cliente e quant'altro attraverso la misurazione quindi scegliete scegliete un focus quindi non non bisogna essere dispersivi scegliete un focus ben preciso basta uno è molto è un po' nella logica della spirale che dicevamo prima è molto più efficace fare un piccolo passo ma essere sistematici in questo quindi aggiungere metodici assolutamente che non invece uno sforzo diciamo enorme una tanto quindi il tema della misurazione è senz'altro un primo compito interessante e l'altro che mi sento diciamo di consigliare è ok siamo tutti focalizzati sui nostri clienti quindi cerchiamo di servirle al meglio di soddisfarli provate però a guardare accanto ai vostri clienti se c'è un non cliente quindi quello che attualmente non è un cliente un non cliente che però potremmo raggiungere che potrebbe aver bisogno di noi magari con ovviamente una piccola modifica nel nostro servizio nel nostro prodotto e perché il non cliente potrebbe essere il cliente di domani potrebbe essere il cliente quei classici clienti che fanno il 70% del fatturato per intenderci quindi due consigli due compiti per casa devo dire veramente molto molto stimolanti vi consigliamo di provare però io stesso assolutamente appena chiusa questa piccola chiacchierata va bene allora intanto ti ringrazio ancora Simone è stato veramente un piacere fare due chiacchiere con te è stata una conversazione piena di contenuti molto utile per chi ci ha potuto seguire in questo filmato ricordo tutti di scaricare l'ebook dal link che c'è qui vicino a questo video e di segnare sull'agenda il prossimo martedì ore 18.30 il prossimo esperto il prossimo appuntamento non perdetevelo perché se avete una giovane impresa può esservi davvero molto utile ciao a tutti ciao Simone grazie ancora grazie a te Bruno ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti